Genitori e docenti soddisfatti per l'avvio del nuovo anno scolastico in presenza e in totale sicurezza tra mascherine, distanziamento e green pass. L'auspicio un po' per tutti è che non si torni alla poco ben vista DAD, la didattica a distanza che ha caratterizzato gli ultimi due anni scolastici. Comunque i ragazzi hanno bisogno di noi e soprattutto di stare tra loro, quindi la relazione è l'elemento più importante. Buona parte dei ragazzi si tratta di riprendere un filo già avviato, mentre con i ragazzi che sono al primissimo giorno di scuola con noi sarà interessantissimo porre le basi per un proficuo lavoro per tre anni. Tutti in presenza, sereni, un anno sereno. Noi siamo tutti pronti, il nostro green pass è a disposizione, i ragazzi sanno già cosa fare e quindi andrà tutto bene. Poter finalmente vivere un anno in presenza, sempre con le dovute cautele. Ci auguriamo di continuare in presenza soprattutto per i ragazzi. Per i papà e per le mamme è sempre un giorno particolare, sicuramente sono giornate che poi rimangono nella memoria. Speriamo in un anno buono soprattutto non di dad ma in presenza. Un bel giorno anche per loro, soprattutto dopo anche la pandemia, che iniziano a socializzare nuovamente e torniamo diciamo alla vita normale. Preoccupato no perché prima o poi bisognerebbe ritornare alla normalità. Preoccupati no, più che altro emozionati, solo quello. Sarà una nuova esperienza, però è la vita, sono esperienze che si dovranno fare. È il primo figlio, è il primo giorno, so che sicuramente si troverà bene, però speriamo che almeno per quest'anno vada tutto bene.